Buonasera a tutti dalla nostra redazione, benvenuti all'edizione serale del telegiornale della Versilia. Rifiuti nelle coltivazioni biologiche a Massarosa dopo la denuncia di ieri del Movimento dei Cinque Stelle con il senatore Gianluca Ferrara, in mattinata un nuovo sopralluogo da parte del senatore ma anche dei carabinieri della stazione massarosese impegnati nelle indagini. La situazione, commenta il senatore, è estremamente grave. È gravissima se si pensa che qui ci sono questi oggetti dove poi su questa terra viene prodotto il biologico. Questa è la situazione veramente di cui non riescono anche più a commentare. Plastiche di ogni tipo. Con noi ci sono nuovamente i carabinieri, in particolare il maresciallo che ci ha promesso che faranno delle indagini molto accurate perché non è possibile che a Massarosa e nell'intera Versilia ci sia questa degenerazione ambientale. Nuovo sopralluogo del senatore versiliese dei Cinque Stelle Gianluca Ferrara e dei carabinieri nei terreni nella zona di Pioppogatto a Massarosa dove è stato scoperto ammendante contenente materiale plastico, ferroso, nylon ed altri oggetti. Il senatore intende chiedere chiarimenti sia a Sea Risorse, da dove proverrebbe l'ammendante, sia al sindaco del comune di Viareggio. Ieri con il maresciallo abbiamo potuto constatare che su queste bolle la provenienza di questi camion vengono da Sea Risorse ed è evidente che Sea Risorse poi prende questo verde, tra virgolette, dalla murina. Bisognerà capire se le quantità di materiale non naturale presenti nell'ammendante siano superiori a quelle tollerate. Ma il senatore non ha dubbi. Questo qua non può, non è a essere ammendante, non può essere un concime per produrre biologico. Questa è una pallina da tennis in plastica che deve essere riciclata. E dunque indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza su questa vicenda e appurare eventuali azioni illecite. Facciamo il punto. Ammendante contenente rifiuti sistemato nelle coltivazioni biologiche nella comune di Massarosa. Il caso, portato alla ribalta dalla senatore dei 5 Stelle Gianluca Ferrara, sembra essere solo agli inizi. Due sopralluoghi in due giorni consecutivi da parte dei carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. I girasoli nei terreni dove è stato sistemato l'ammendante contenente rifiuti versano in un pessimo stato. Colpa anche di una stagione in cui le piogge hanno scarseggiato, ma il timore dei 5 Stelle è che la cattiva riuscita di queste coltivazioni possa essere in qualche modo imputabile all'ammendante contenente rifiuti. Materiale plastico, ferroso e la lista potrebbe continuare ancora molto a lungo. I 5 Stelle dicono di essere in possesso e di averli già forniti ai carabinieri di documenti che attesterebbero la provenienza dell'ammendante sistemato nei terreni a Massarosa da SEA risorse dall'impianto della Morina a Viareggio. La vicenda sembra essere presa sul serio dalle forze dell'ordine che stanno indagando, garantendo, riferiscono i 5 Stelle, una forte attenzione su questo tema. Un fenomeno che non deve essere sottovalutato. Il senatore Gianluca Ferrara invita i cittadini a conoscenza di altre situazioni simili a denunciare subito alle autorità competenti. Terza notte di aria irrespirabile in mezzo a Versilia, mentre la torba nel paludio di Massaciuccoli continua a bruciare e avvelenare l'aria. Nel pomeriggio di venerdì il senatore Viareggino Gianluca Ferrara, a Movimento 5 Stelle, ha effettato un sopralluogo in località Botolo, nei terreni interessati dai ripetuti incendi che provocano da giorni forti miasmi da Torre del Lago fino a Forte Remarmi. Il sopralluogo ha permesso di verificare che all'opera c'era una sola ruspa escavatrice che tentava di arginare con difficoltà l'estendersi delle fiamme, mentre è stata notata la totale assenza di allagamenti dei terreni arsi. Sollecitiamo Arpat ad effettuare dei controlli sul posto sia dal punto di vista dei terreni sia dal punto di vista dell'area, perché qui veramente la situazione è disperata. Guardate quanto è vasto l'incendio, sono passate tante ore e continua ancora ad ardere. La combustione della torba, in termini tecnici detta anche gasificazione, è pericolosa perché provoca il disperdersi nell'area di sostanze nocive, quali i componenti del carbonio, anitride carbonica, ossidi eccetera, ma anche fenoli, benzopireni, toluene e perfino diossina. Quando i rughi sono già scoppiati, è stato detto, sarebbe opportuno trattarli come incendi in un bosco con l'utilizzo di canader ed elicotteri. Il comune può limitarsi solamente, una volta accettato il fatto, a emettere una delibera in cui impone ai proprietari di chiamare delle aziende a spese loro, quindi anche molto costose, per allagare e spengere. Perché? Io non capisco perché un incendio del genere non può essere trattato esattamente come un incendio boschivo, quando brucia un bosco partono subito gli aerei, quello che devono partire, i pompieri e i compagni belle e vanno a spegnere, poi si accertano le responsabilità e i compagni belle, ma nel frattempo si spenge, perché se questo era stato spento tre giorni fa, quando era superficiale, non era né così costoso da spengere e non era soprattutto, non andava in profondità a bruciare la torba, erano solo fiamme di cannelle, per cui quello che va cambiato è il sistema. Per la sicurezza dei cittadini sembra infine imprescindibile un attento e continuo monitoraggio ambientale, con particolare attenzione per l'analisi chimica dei gas sprigionati dalla combustione della torba. Tali analisi, più volte richieste e sollecitate alle autorità competenti, è stato detto, non sono ancora state eseguite, mentre invece rappresenterebbero il primo passo per la salute pubblica.